Ora, Marta Burghier, vogliamo sapere come è nata questa scoperta. Diciamo che noi nel nostro immaginario vi immaginiamo sempre lì con l'occhio attento dentro un telescopio che scrutate il cielo, scrutate un po' l'universo. Come è andata questa scoperta? Le cose sono un po' diverse nella realtà purtroppo, o per fortuna alle volte, perché l'idea di stare in una cupola tutta la notte, delle volte con l'inverno, non è così appassionante. Questa scoperta è venuta fuori nel 2003 ormai, quindi più di dieci anni fa, con dei dati di un radiotelescopio, quindi un telescopio che in realtà è un'enorme antenna parabolica che non percepisce la luce delle stelle ma ne percepisce e ne raccoglie le onde radio. La scoperta è quella di due pulsar, di un sistema di due pulsar che ruotano rapidissimamente l'una intorno all'altra e le pulsar sono una sorta di stella morta, una pulsar è una stella morta, è ciò che rimane di una stella di grande massa dopo che esaurito il suo combustibile nucleare esplode e il nucleo interno implode, collassa su se stesso, lasciando appunto questo nocciolo, questo nucleo denso, compattissimo, che in virtù della rapidissima rotazione di forze elettromagnetiche molto forti, di campi elettromagnetici enormi, emette dei due fasci di onde radio che vengono percepiti a terra come delle pulsazioni, perché questa pulsa appunto ruota, come dicevo precedentemente, e quindi viene percepita come una sorta di radio faro, una volta per ogni rotazione, se il suo faro radio punta verso la terra, noi possiamo raccogliere un impulso di onde radio. E questi oggetti, oltre ad essere particolarissimi, e in particolare questo che ho scoperto io è un unico nel suo genere, perché sono due pulsar che ruotano l'uno intorno all'altra, sono molto interessanti perché sono sostanzialmente degli orologi cosmici di precisione, la loro rotazione è molto molto stabile, perché sono delle stelle di enorme massa, tipo qualcosa come quasi due volte la massa del Sole, però compattate in 20 km di diametro, che ruotano centinaia di volte in un secondo, quindi frenarle è sostanzialmente impossibile, immaginiamoci una sfera di 20 km che ruota 800 volte in un secondo. Chiaramente il suo ritmo di rotazione non sarà perturbato in nessuna maniera. Avendo quindi questi orologi cosmici di precisione possiamo utilizzarli per sondare lo spazio-tempo tra noi e le pulsar, e con questo sistema in particolare, fatto di due pulsar, siamo potuti andare a studiare se lo spazio-tempo, come previsto dalla relatività generale di Albert Einstein, è curvo, ed è curvo quanto Albert Einstein prevedeva, e la risposta è sì al 99,95%, quindi abbiamo potuto testare la veridicità di queste previsioni teoriche con una precisione mai raggiunta prima. Perché queste due pulsar, in teoria, cioè in pratica, ruotano intorno a se stesse, c'è una gravità che li attira e le fa ruotare. Esattamente, esattamente, hanno delle masse così grandi e concentrate in uno spazio così piccolo che la forza di gravità in questo sistema di due stelle fatte in questa maniera è enorme, e quindi tutti gli effetti previsti da Albert Einstein qui, in questo particolare sistema, sono amplificatissimi. Per fare un esempio c'è uno degli effetti, che è quello che dice che l'orbita di tutti i corpi non è esattamente ellittica, come diceva Keplero, ma è un ellissi che ruota nello spazio pian piano nel tempo. Quello si è visto in cinque giorni di osservazione, abbiamo visto che l'orbita effettivamente si muoveva. Per il pianeta Mercurio, che è il primo per cui questa cosa si è notata, e quindi si è capito che le leggi di Keplero non erano proprio esatte, c'era qualcosa che mancava, lì sono quattro secondi d'arco, dove un secondo d'arco è un 3.600 di grado, quindi un angolo piccolissimo, si sposta a quest'orbita di quattro secondi d'arco in un secolo, quindi chiaramente sostanzialmente impercettibile, se non con osservazioni che durano moltissimi anni, decenni, secoli. Nel caso di questo sistema, l'angolo di spostamento non è secondi ogni secolo, ma è di 16 gradi in un anno, quindi un angolo, diciamo, così percepibile. Chiaramente in più, avendo l'orologio cosmico di precisione, uno spostamento così grande, relativamente si intende, lo si è visto in un tempo molto molto più piccolo che non quello che è stato necessario per Mercurio o per qualsiasi altro sistema di lì in avanti scoperto. Le soddisfazioni provate dopo questa scoperta, perché è stata un po' travagliata, inizialmente si impensava una pulsa sola che ruotasse intorno ai normali, tra virgolette, neutroni, invece poi è uscito e diciamo vi è scoppiato il cuore. Ah, sì, sì, già, io devo dire già con la scoperta della prima che ho fatto io in prima persona, è stata un'emozione incredibile, poi vabbè la storia è buffa perché ero in Australia, sotto, intorno alle vacanze di Pasqua, quindi in ufficio in Australia non c'era nessuno perché era intorno alle feste, un po' tardo pomeriggio. In Italia, per via del fuso orario, era ancora mattina molto presto e quindi io giravo con questo grafico incomprensibile ai più, tra l'altro, cercando qualcuno a cui far vedere, perché già lì si capiva che l'oggetto doveva essere interessante, doveva essere in un'orbita piccola e rapida intorno a qualche altra stella compatta e dopodiché quando abbiamo scoperto la seconda è stato veramente... lì è stata una cosa un po' dolce e amara perché la scoperta ci stavo lavorando io direttamente, poi invece chi ha visto i dati per primo è stato qualcun altro, quindi c'è stato un po' di amarezza nel non averla fatta direttamente io, però chiaramente la contentezza di avere tra le mani il primo sistema di questo genere e con cui sapevamo di poter fare degli studi mai fatti prima è stata incredibile. Dall'osservatorio di Cagliari, dove è impegnata, a quello di San Bertolomi in Valle d'Aosta, diciamo c'è una differenza enorme, però anche qua in Valle d'Aosta diciamo ci si difende abbastanza, sì, per chi vuole approcciarsi, avvicinarsi a questo mondo e anche qualche ricercatore che avesse l'interesse, diciamo che c'è tutto a disposizione e è una soddisfazione per una piccola Valle avere questo osservatorio. Sì, 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 è veramente un osservatorio che nasceva come luogo prettamente di divulgazione della scienza e didattica per le scuole e che invece negli ultimi anni, credo sei o sette anni è cresciuto moltissimo dal punto di vista proprio scientifico, è diventato un vero istituto di ricerca si fa a Scienza Vera, ci sono articoli pubblicati su riviste internazionali, ci sono collaborazioni internazionali con la Francia, con gli Stati Uniti e per cui è un vero centro di ricerca in cui poi certo si continua anche a fare didattica e divulgazione di altissimo profilo quindi invito tutti ad andarlo a visitare, a fare le visite notturne perché insomma è veramente vale la pena. Marta Borghè dove sta puntando l'occhio oggi come oggi nel firmamento? Oh scientificamente vabbè un po' dappertutto perché una delle cose che mi piacerebbe scoprire nel campo sempre delle pulsar è una pulsar che ruoti intorno a un buco nero perché lì chiaramente le forze in gioco, le forze gravitazionali in gioco sarebbero ancora più grandi poi i buchi neri sono questa cosa misteriosa che non si capisce esattamente che cosa siano e quindi avere un orologio cosmico di precisione che ruota intorno a questo oggetto misterioso ci aprirebbe moltissime strade nuove per la comprensione di questi oggetti.